Abbiamo scelto i sei assessori in base alle competenze per dare risposte alla regione con una visione unitaria al di là dei territorialismi. È stata presentata così dal presidente Francesco Acquaroli la squadra, definita forte e coesa, che andrà a governare le Marche per i prossimi cinque anni. La giunta è stata decisa dopo quasi un mese dalla sua elezione e dopo numerosi incontri tra i commissari del centrodestra. La provincia di Pesero-Urbino sarà rappresentata dal trittico composto da Mirko Carloni, Francesco Baldelli e Stefano Guzzi. A Carloni il primo degli eletti della Lega va la vicepresidenza e tutto il pacchetto delle attività economiche e produttive, comprensivo di agroalimentare, caccia, pesca, oltre alla delega marchigiani nel mondo. Francesco Baldelli, di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Pergole e vicepresidente nazionale del Lanci, si occuperà di viabilità, lavori pubblici, governo del territorio, aree interne e infrastrutture, uno dei suoi cavalli di battaglia. Stefano Guzzi, in lista con Forza Italia Civici per le Marche, ex sindaco di Fano per dieci anni e primo cittadino di Colli al Metauro, è stato fortemente voluto da Acquaroli. A Guzzi sarà assessore all'ambiente, al lavoro, all'urbanistica, ma anche difesa della costa, edilizia e protezione civile. Dal prossimo consiglio comunale le sue funzioni passeranno al vice sindaco Andrea Giuliani. La sfida più difficile, quella sanitaria, è affidata a Filippo Saltamartini, ex poliziotto, vicequestore aggiunto e già sindaco di Cingoli. Secondo eletto nelle file della Lega, aspetta lui rivedere il piano socio-sanitario. Saltamartini guiderà anche la sicurezza, i servizi sociali, l'immigrazione, la famiglia e la polizia locale. L'unica donna in giunta è Giorgia Latini della Lega, nata a Fabriano, è stata assessore alla cultura del comune di Ascoli Piceno. Latini, che va a comporre la quota rosa, si dimette dall'incarico di deputata e restata eletta alla Camera nella circoscrizione Marchi Sud per ricoprire il ruolo di assessore alla cultura, sport, istruzione, politica giovanili e pari opportunità. Per Fratelli d'Italia scende in campo anche Guido Castelli, per dieci anni primo cittadino di Ascoli Piceno e consigliere regionale dal 2000 al 2009. si occuperà di bilancio, trasporti, enti locali e ricostruzione post-terremoto. Il presidente Francesco Acquaroli ha deciso poi di tenere per sé la gestione del porto, aeroporto e interporto, politiche europee, coordinamento della comunicazione e turismo. Quest'ultima ha detto in conferenza per rilanciare l'immagine della regione poco conosciuta sia in Italia che all'estero. La presidenza del Consiglio invece va di Nolatini, unico eletto con la lista dell'Udc, ex sindaco di Osimo e già consigliere regionale dal 2010 al 2015. Nei prossimi mesi verrà nominato anche un sottosegretario, probabilmente sarà donna ed espressione delle aree scoperte dall'assessorato. Al termine della presentazione alla stampa la Giunta si è riunita per i primi atti.